Squinsano non dimentica Paola Marzo, la parrucchiera 41enne vittima della cieca insensata gelosia dell'ex marito che l'8 agosto scorso uccise la donna a colpi di pistola prima di togliersi la vita con la stessa arma. A Paola e alle altre vittime del femminicidio è stato dedicato il dibattito dal titolo La Luna Strappata. Troppo piccola l'aula consigliare del comune per contenere il pubblico che ha partecipato all'incontro con la nota criminologa Roberta Bruzzone e con il procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone. La sottovalutazione del rischio è l'elemento su cui ancora oggi contano moltissimi futuri assassini. L'unica arma che hanno le donne è la denuncia? Un'arma sicuramente efficace è la denuncia, l'altra grande arma è confrontarsi con persone che possono in qualche modo aiutarle a comprendere, a circoscrivere in maniera precisa esattamente il tipo di situazione in cui sono inserite e di che tipo di maltrattamento sono vittime, soprattutto a realizzare la loro condizione di vittima ma non per aumentare il livello di passività ma per fare in modo che scatti una sorta di grilletto interiore verso chiaramente la liberazione dalla guzzina. Particolare attenzione è stata dedicata agli strumenti di prevenzione e tutela ed è proprio in quest'ambito che si concentra l'impegno della dottoressa Mignone. Mi farò portavoce presso il procuratore della Repubblica, dottore Catoldo Motta e dell'esigenza di avere appunto un rapporto più mediatto e diretto da parte delle persone rispetto a questa tematica.